... Buonasera, l'Italia è in lutto per l'uccisione del suo giudice simbolo nella lotta contro la mafia. Giovanni Falcole è morto poche ore fa vicino a Palermo in un attentato devastante che ha provocato, secondo l'ultimissima notizia, anche la morte della moglie e di quattro uomini della scorta. Un attentato orribile che ha fatto altri dieci feriti, tra i quali alcuni sono in gravissime condizioni. Un attentato orribile anche per le immagini che stiamo per vedere. Per uccidere Giovanni Falcole sono stati impiegati, pensate, mille chilogrammi di esplosivo. Una carica dalla potenza devastante che ha letteralmente polverizzato un lungo tratto dell'autostrada che dall'aeroporto di Punta Raisi porta a Palermo, vicino allo svincolo di Capaci. Proprio sotto il cavalcavia dello svincolo era stato collocato l'esplosivo. Un'azione evidentemente preparata con cura e con un dispiegamento ingente di mezzi e di coperture da parte dell'organizzazione mafiosa. Pensate cosa vuol dire poter piazzare una tonnellata di tritolo con gli apparati del comando a distanza, tenerli celati, poter sincronizzare l'attentato con il passaggio dell'auto di Falcone. La mafia aveva evidentemente uomini all'aeroporto di Punta Raisi per verificare l'avvenuto a terraggio del volo e lungo tutto il tragitto dallo scalo al punto dell'esplosione.